60 miliardi di dollari è il finanziamento per l'ucraina che è stato approvato dal senato americano ma che è atteso dal via libera alla camera che tra l'altro via libera tutt'altro che scontato visto che il congresso è in mano ai repubblicani a giugno dovrebbero essere consegnati all'ucraina i primi f16 americani e il governo ucraino si aspetta che circa 12 piloti vengano addestrati i sugetti al combattimento entro settembre quindi è tutta una cosa da da vedere biden ha dichiarato putin dovrà pagare il prezzo di di questa di questa guerra titolava repubblica nell'edizione online giorni scorse montagne di miliardi per l'industria bellica europea e prime convergenze verso una difesa comune per poi proseguire fregate missili sistemi antiaereo e antimissile sottomarini e caccia da combattimento comincia a prendere piede a parigi berlino e roma spinta da von der leyen e draghi l'idea di dare concretezza un mercato comune della difesa amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati in questo nostro appuntamento do subito il benvenuto a giacomo gabellini ciao giacomo ciao carlo ciao stefano buongiorno a tutti ecco e benvenuto a stefano stefano orsi ciao stefano ciao carlo ciao giacomo buongiorno a tutti per questa puntata che in via del tutto eccezionale va in onda martedì perché ieri c'è stato il lancio della campagna di preabbonamento per rinnovare e potenziare il nostro progetto editoriale che vi abbiamo illustrato e spiegato assieme a gabriele san nino proprio nella puntata di ieri e vi invito a vederla nel caso vi fosse sfuggita allora il tema direi di oggi di partenza è sicuramente la morte di navalli nel nord ovest della siberia stefano come possiamo spiegare questa morte ma non abbiamo elementi probanti nel senso che non non sono stati diramati dati di autopsia non ci sono testimonianze dirette ci sono ricostruzioni fantasiose da parte di alcuni giornali che non si capisce bene come pota possano aver avuto determinate informazioni se non o inventandole o tramite qualche gente presente sul posto possiamo annotare alcuni dati però il primo di tutti è che se c'era qualcuno che aveva interesse a mantenere vivo e in galera navalni questa era l'amministrazione russa soprattutto in vista delle elezioni che sono nessun interesse a far fuori una persona ormai scomparsa da alcuni da un paio d'anni dalle scene della politica della telecomunica della comunicazione del del panorama anche solo organizzativo di manifestazioni in russia era del tutto sparito lo avevano ormai vinto e pertanto ed era mediaticamente stefano aggiungerei mediaticamente ormai quasi dimenticato disinnescato completamente disinnescato ricordiamo soprattutto che è sempre stato noto più all'estero che che in russia in russia nel momento di massima popolarità solo il 12 per cento dei cittadini sapeva chi fosse navalli quindi stiamo parlando di un nulla assoluto all'estero invece era stato presentato in vari modi nessuno di questi attinenti alla realtà il personaggio quindi serviva più da vivo che da morto all'amministrazione russa che aveva tutto l'interesse a mantenerlo in galera in siberia oltretutto mentre invece mentre invece il personaggio da morto sembra molto più utile all'occidente questa è una valutazione di fatti nel senso che è oltretutto la coincidenza della sua morte la coincidenza temporale con l'inizio della conferenza di pace a monaco con la sconfitta militare pesantissima ucraina ad advevka con le campagne elettorale russa che entra nel vivo è qualcosa di miracoloso per l'occidente ecco senti stefano sentiamo sentiamo intanto un primo giro anche di giacomo perché tanto questa questa puntata sicuramente in buona parte sarà dedicata a navalni e a quello che sta avvenendo appunto giacomo la diceva stefano che la russia aveva tutto l'interesse che che rimanesse rimanesse vivo no in queste in queste cose qua la regola maestra è domandarsi a chi giovano e andare per esclusione prego beh chiaro cioè ammettendo che putin è un idiota non lo dice nessuno onestamente gli hanno dato mi hanno affibbiato qualsiasi tipo di etichetta ma non quella per cui nemmeno un mese di distanza dalle dalle elezioni che lo vedono stra favorito la detta di tutti sia in russia che in occidente io mi chiedo quale dovrebbe essere l'interesse di un leader collocato in una posizione così vantaggiosa di pelagarsi in un assassino politico come questo di un personaggio che per giunta come giustamente si diceva gode di ampia diciamo notorietà al di fuori dei confini russi mentre in patria è conosciuto da pochissimi peraltro soltanto nella regione di mosca e san pietroburgo probabilmente ma soprattutto è una ricostruzione chiaramente che è stata data quindi senza uno straccio di una prova si risale immediatamente al mandante come hanno fatto in occidente perché ormai sappiamo che le come funzionano il diciamo i meccanismi diciamo induttivi dell'occidente sappiamo che le cose sono così a prescindere semplici molto molto semplicemente senza minimamente considerare l'opportunità di un gesto simile da parte da parte del leader del cremlino e soprattutto senza prendere in considerazione il fatto dei danno del danno che provoca obiettivamente una un evento del genere a una campagna elettorale di putin che solo pochi giorni fa aveva rilasciato un'intervista a tucker carson che è stata vista da non so quante centinaia di milioni di persone tra cui molti occidentali quindi direi che è infatti giacomo allora questa questa morte di navalli no allora noi notiamo che ha spostato ha creato i presupposti per spostare l'attenzione le telecamere possiamo dire no nel mondo della comunicazione le telecamere e i fari sulla morte navale distoglierla completamente dalla dalle interviste dai contenuti e da quello che stava provocando no oltre anche diciamo alla al genocidio chiamiamolo pure così di gaza no adesso tutto l'occidente ha puntato lì la le telecamere no certo nome non è normale sappiamo che osservano queste cose che peraltro un persona anche come viene dipinto navalli cioè si ricorda liberale principale oppositore queste cose sono letteralmente assurde i principali oppositori di putti nel partito comunista russo i nazionalisti che avevano un leader come zirinovski che ormai morto tempo fa ma consiglio a tutti di andare a vedere cosa diceva cioè sono partiti che hanno delle posizioni rispetto alle quali putti ne è un moderato ma moderatissimo e infatti non vengono menzionati proprio per quello no per la stampa occidentale l'unico l'unico diciamo il dissidente e navalni ma sono queste sono proprio ridicola come come ricostruzione io credo che questo omicidio vada perché credo di che di omicidio si tratti vada ricondotto a una logica molto diversa non so se ce ne posso parlare adesso vuoi che ne parli più avanti guarda possiamo possiamo anche possiamo anche già parlarne parlare anche adesso volevo sentire una un attimo un giro però prima che con stefano telecamere tutte puntate adesso su sembra quasi no la il la narrazione occidentale non aspettava altro di poter sviare le telecamere no e gli spot luminosi non si è parlato che la cavalcano alla grande insomma no con con migliaia di bambini mutilati in palestina adesso adesso cioè c'è un cosiddetto dissidente dopo vedremo meglio magari chi è navalni e lui diventato questa morte diventata la cosa più importante insomma guarda semplicemente non si parla quasi per nulla ad esempio della grande sconfitta militare subita dall'ucraina non si parla più di di gaza e di israele non si parla più dell'intervista di taker carson si parla gli unici argomenti che sembrano essere in discussione sono le armi all'ucraina il pericolo di satelliti nucleari russi e la morte di navalni punto se non esiste nient'altro sì il tema il l'informazione monopolizzata da questi temi ecco a proposito di creare proprio allarme vedo ritorno sempre su repubblica perché si sta distinguendo molto in questo i giorni scorsi titolava washington una nuova arma russa minaccia gli stati uniti no allora sapendo bene che l'ottanta per cento delle persone leggono solo il titolo dopo dentro si specifica sì ma non è una minaccia immediata ammesso che lo sia ecco però insomma è tutto tutti elementi che servono a creare un clima ben preciso giacomo ti lascio proseguire su navalni io credo che ci sia la mia un'ipotesi chiaramente non ho prove concrete però secondo me buona parte degli omicidi che si consumano in russia omicidi cosiddetti eccellenti e questo secondo me annoverabile come tali tra tra questi sconta una saldatura tra interessi interni ed esterni alla russia per cui sempre secondo la logica del cui protest mi viene da dire che chi ha interesse a mettere in difficoltà putine il principale beneficiario e possono essere indubbiamente ambienti anglo statunitensi la nato nel complesso ma credo anche degli ambienti interni principalmente quelli che hanno avuto molto da perdere dalla diciamo dalla svolta che putine impresso la russia a quanto meno a partire dal 2014 in realtà da prima cioè la spostamento del baricentro non solo economico ma proprio politico militare culturale della russia a 180 gradi da ovest a est e il fatto di ricentrarsi sull'oriente mentre per esempio buona parte degli oligarchi quelli che c'è qui ex giovani membri del comsomol il partito comunista russo sovietico all'epoca che avevano fatto costruito le proprie fortune sui programmi di privatizzazione avviati sotto yeltsin la cosiddetta operazione voucher ricordiamo che avevano quindi preso in prestito ampie somme di denaro da parte delle banche anglo statunitensi per fare incetta di questi voucher che erano stati distribuiti alla popolazione russa per renderla titolare comproprietaria anche la Deutsche Bank mi sembra sì anche chiaro però c'erano degli anglo statunitensi i britannici in particolare erano dentro fino al collo quindi avevano prestato denaro a questi personaggi per fare incetta di questi certificati che avevano stati distribuiti alla popolazione russa per dare la titola con proprietà di un getto di vari giacimenti del patrimonio industriale insomma questi personaggi nel giro di pochi anni pochi mesi si sono appropriati del patrimonio minerario e industriale dell'unione dell'ex unione sovietica in poche parole pochissime persone queste pochissime persone componevano la famiglia cosiddetta famiglia che diciamo manipolavano Yeltsin come una marionetta ed erano riusciti a diciamo conquistare il paese e purlo nelle prepararsi anche a svenderlo in buona parte ricordiamo l'operazione Yukos che era sostanzialmente l'azienda da cui poi è nata Gazprom che Khodorkovsky uno dei principali oligarchi era sul punto di cedere a ExxonMobil se non fosse intervenuto Putin Putin quando arriva al potere traccia una linea russa e dice voi avete fatto un sacco di soldi d'ora in poi continuate a gestire amministrare i vostri patrimoni ma non azzardatevi in interferire negli affari politici pena lo vedrete qualcuno ha capito l'antifona come Roman Abramovich e altri invece hanno deciso di sfidare Putin e ci hanno rimesso pensiamo a Boris il Khodorkovsky altri sono fuggiti in Israele buona parte perché erano quasi tutti ebrei questi questi oligarchi buona parte di essi erano ebrei quindi già c'è stata un regolamento un primo regolamento di conti sulla scia del processo di riorientamento dell'economia russa che dicevo prima c'è stata una stima secondo cui il patrimonio degli oligarchi che erano rimasti in Russia è stato più che dimezzato perché avevano interessi fortemente legati al mantenimento di relazioni strettamente collaborative con l'occidente per cui credo che all'interno della Russia ci siano questi ambienti che sono hanno se non altro per desiderio di vendetta nei confronti di Putin siano pronti a fargli uno sgambetto fondamentalmente di questi l'interesse convergente da questo punto di vista rispetto agli ambienti anglo statunitensi di cui parlavo prima cioè il fatto di cercare di rovinare la festa un leader che in un momento in cui si appresta a andare vittorioso alle elezioni anche sulla scia di una vittoria militare importante come quella di adverca magari parleremo dopo eh sì certo insomma il quadro direi che mi pare abbia una sua coerenza presentato in questa maniera sicuramente maggiore rispetto a quella che si evince dai mass medi occidentali certo dove praticamente Putin si sarebbe si sarebbe tagliato i gioielli di famiglia da solo no cercando di dare un eufemismo di dare un dobbiamo ricordare anche un'altra cosa di navalni che non era affatto in carcere per ragioni politiche ecco veniamo al punto chi è navalni chi era navalni 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 è sempre stato una persona un personaggio cresciuto nell'estremismo eh nella xenofobia ehm sfruttata ai fini politici eh era un ultra nazionalista vicino ad ambienti dei gruppi neonazisti che infatti hanno sempre fornito la manovalanza per le sue eh eh limitate numericamente manifestazioni a Mosca a San Pietroburgo ma anche sono i tre centri dove ha il diciamo il il maggior seguito sempre limitatamente a a qualche migliaio di di fan ecco cioè non nel momento di maggior di maggior mobilitazione non è mai neanche arrivato a credo a 50 mila persone in tutta la russia ehm per cui stiamo parlando di cifre veramente limitatissime eh per quanto riguarda eh navalni eh ricordiamo che era in carcere a seguito di una prima condanna eh a causa eh di un processo eh intentato per via di una denuncia del gruppo industriale francese che eh che l'aveva accusato e ha vinto la causa eh di appropriazione in debita per 30 milioni di rubli che eh il gruppo navalni aveva sottratto e fatto sparire al al gruppo Yves Rocher eh lui ha convertito la pena in una semilibertà per otto anni avrebbe dovuto firmare due volte al mese ehm la sua presenza presso un commissariato di polizia dove che gli era stato indicato e a un certo punto ha omesso di ehm firmare quindi si è sottratto agli obblighi della ehm libertà della semilibertà eh quindi quando eh poi eh tornato in in patria è stato processato e condannato a mi sembra otto anni di prigione che stava scontando stava scontando questa pena sempre siamo ben lontani dalla politica insomma stiamo parlando di reati comuni l'evasione e eh la l'appropriazione in debita se non anche l'associazione delinque perché furono in tre i condannati lui suo fratello e il socio eh durante la prigionia per durare di questi reati comuni che era ancora in corso non è non aveva completato la pena ha subito un altro processo un'altra condanna a diciannove anni di galera per eh estremismo che è un reato che non è eh così eh strano in una democrazia perché è presente anche eh in Italia questo tipo di reato oltretutto nella in Russia è indicato eh per quelle persone oltretutto che vengono pagate da stati stranieri per eh organizzare eh manifestazioni o danneggiare il il proprio paese a vantaggio di altri eh e questo reato esiste anche in Italia come in tutte le democrazie ecco eh e si rischiano anche pene molto severe quindi non c'è una persecuzione politica ai danni di Navalny ma una serie di reati comuni che sono presenti e punibili anche eh da noi sì nulla non per esempio faccio un esempio in Ucraina poco tempo fa è morto eh un giornalista blogger eh Gonzalo Lira lui era in prigione nonostante le precarie condizioni di salute eh necessitava di farmaci e di di cure mediche ehm anche prima dell'arresto eh ed era in stato incarcerato pur essendo cittadino americano eh per eh per aver messo in cattiva luce il governo ucraino questo è un reato politico è stato imprigionato per questioni politiche eh nonostante ciò e nonostante che fosse un cittadino americano l'amministrazione americana lo ha lasciato morire in carcere senza mai attivarsi per salvarlo eh il eh giornalista Julian Assange è ancora in prigione in Gran Bretagna anche lui per aver fatto il proprio lavoro non è tramato e non è stato pagato da potenze straniere nessuno gli ha mai contestato questo tipo di reati ma ha semplicemente denunciato i crimini eh commessi dal regime statunitense che che ha spiccato i mandati di cattura eh contro di lui e la Gran Bretagna lo tiene prigioniero. Sì eh tra l'altro di Julian Julian Assange parleremo eh in settimana con un'intervista specifica al eh direttore dell'indipendente Andrea Legni. Eh senti Stefano nella interessantissima ricostruzione che ha fatto Giacomo poco fa dice praticamente hm possiamo risalire a dei nemici interni di Putin no? Certo. In questo in questo in questa morte di di Navalli no? Dove per l'Occidente per l'America diciamo i nemici di Putin presumo siano automaticamente i loro amici. Ma guarda. Dove sempre sulla sulla teoria eh sul concetto del cui prodesta chi conviene no? C'è tutta un c'è tutto un elenco di eh persone la cui morte è stata mh attribuita senza alcuna prova eh a Putin direttamente come se qualunque cosa succedesse in Italia venisse attribuita qualunque morte accadesse in Italia venisse attribuita a Mattarella per dire eh ad esempio la eh Politoskaya eh la giornalista mh uccisa anni fa svolgeva anche indagini contro la malavita organizzata a Mosca eh no il marito ha detto più volte eh che eh fu uccisa a causa di quello del suo lavoro ma dalla malavita organizzata eh Nemtsov che fu ucciso sul ponte che conduce alla piazza rossa era noto frequentatore di spacciatori di droghe di Knight fu ucciso in compagnia di una prostituta eh ucraina di notte eh da un rapinatore tra altre cose che poi è stato arrestato ehm c'è tutta una serie di elementi di persone eh che eh sono morte e la cui morte è stata attribuita al al presidente russo che sinceramente il presidente russo non aveva nessun interesse a far fuori la stessa Politoskaya la stessa Politoskaya non era nota a la gran parte del pubblico ehm russo anzi ehm per cui non si capisce perché delle degli articoli di giornale che non avevano dato seguito ad alcuna eh procedura nei confronti di chi che sia potessero rappresentare eh un eh un motivo per per ucciderla ecco sono sempre quelle ricostruzioni piuttosto fantasiose prive di ogni riscontro provatorio che invece vengono date per certe dalla nostra stampa che l'altro giorno titolava l'omicidio di Navalny ecco ehm non è una cosa che si possa scrivere ecco chiaro chiaro e Giacomo come come proseguirà la questione Navalny intanto anche da un punto di vista mediatico allora eh possiamo ipotizzare il mese prossimo a marzo mi sembra no e nel corso di marzo ci eh ci saranno le elezioni in Russia eh si può ipotizzare che l'occidente la stampa in media occidentali andranno avanti almeno fino alle elezioni a cavalcare l'onda Navalny figuriamoci ovviamente parleranno quasi solo di quello anche perché quello è un argomento buono per anche perché prendono più piccioni con una fava diciamo esattamente perché adesso è sempre più difficile cioè capito c'era una guardavo un problema tra l'altro non è nemmeno solo italiano leggevo giorni fa che c'era un'organizzazione francese che monitora le diciamo lo spazio divide analizza lo spazio che le varie eh testate principali delle televisive principali emittenti televisive francese eh dedicano i vari argomenti beh al destino degli degli abitanti di Gaza avevano su 29 ore di registrazione avevano dedicato a 5 minuti il primo il secondo maggiore del canale televisivo francese sarebbe interessante vedere quanto una rimozione proprio totale quanto tempo dedicheranno a questo a questa vicenda indubbiamente quindi che serve per coprire altri problemi ben più grandi per esempio quelli sul campo di battaglia anche per rimanere veniamo veniamo lì appunto perché uno l'avevi già accennato prima no alla capitolazione possiamo dire di ad vede sì 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 è interessante perché sembrerebbe che non ci sia l'intenzione da parte degli degli ucraini di fare un'altra bakhmut eh questo è particolarmente interessante perché sembrava la situazione sembrava mettersi in quella maniera la stessa avvicendamento tra zaluzni e sirski che insomma era il comandante a bakhmut che sappiamo che bakhmut era stato uno delle bakhmut artemos che era stata una delle dei principali questioni diciamo nodo della discordia tra zaluzni e zelenski perché zaluzni voleva impostare da militare voleva impostare la campagna in tutt'altra maniera trincerarsi in difesa eccetera invece zelenski impose una battaglia fino all'ultimo uomo fondamentalmente probabilmente in queste questa frangente una battaglia l'ultimo uomo sarebbe la devastazione totale dell'ucraina quindi penso che cerchino di salvare il salvabile arretrare di qualche non so vedremo quanto di qualche chilometro indubbiamente per cercare di attestarsi nuovamente in difesa probabilmente il tempo però gioca contro di loro perché i russi stanno prendendo di mira non solo lì ma un po ovunque e quindi 60 miliardi o non 60 miliardi cambierà poco perché i miliardi non fabbricano istantaneamente le armi negli uomini da mandare sul fronte per cui il destino di questo conflitto secondo me è segnato e c'è poco ormai c'è poco da fare ad vel che era un caposaldo importante altamente fortificato non esattamente da ieri e la cui caduta probabilmente spalanca per i russi ampie praterie insomma c'è c'è spazio per la conquista dell'intera oblast del donetsk e forse anche anche di più perché io credo che per esempio l'oblast di kharkov cercheranno di riprendere i territori che hanno perso con l'offensiva ucraina e quella regione quanto meno se vedremo odessa perché quel teatro è sempre lì è sempre un po la regione di kerson insomma è sempre un po traballante però penso che non staranno fermi per moltissimo anche su quel settore lì sì e stefano che scenari si aprono anche da un punto di vista occidentale perché giacomo l'ha descritto poi ovviamente tu sei un esperto proprio no di questioni militari e in questo senso i nostri ascoltatori potranno vedere e gli approfondimenti proprio nel tuo canale no youtube e però appunto questa possibilità adesso di allargarsi nelle zone che la russia ritiene sue che scenari apre perché per la nato per gli stati uniti voglio dire come come possono porre rimedio anche a livello di immagine stessa ma allora intanto il valore di avdevka dal punto di vista strategico è enorme perché era un punto assolutamente vicino attaccato alla capitale della dpr e pertanto era una postazione avanzata che avrebbe permesso eventualmente un attacco direttamente alla capitale da parte delle forze della nato e dell'ucraina ecco da questo punto di vista quindi il valore della sua conquista è enorme devo però annotare che non c'è stata una volontà da parte della dell'amministrazione del comando di ritirare i propri uomini da lì anzi loro in questi mesi hanno fatto esattamente quello che hanno fatto a bakhmut cioè artiomosc hanno rafforzato la linea ha fatto confluire qui le unità migliori che avevano per tenere la città sirski appena prima appena entrato al comando ha mandato l'unità la terza brigata d'assalto della zof proprio per tenere le posizioni e cacciare indietro le le postazioni avanzate russe dal fronte non ce l'hanno fatta anzi hanno continuato a perdere terreno perché hanno dato l'ordine di ritirarsi perché erano già due giorni che le unità esterne ucraine della centodecima brigata e delle altre due che erano lì si ritiravano spontaneamente e cioè andavano via dalle zone dai fronti che dovevano difendere si ritiravano verso il centro città e da lì proseguivano attraverso il quartiere 9 attraverso i campi e si ritiravano nelle retrovie a un loro hanno preso semplicemente atto di una situazione che gli uomini sul campo avevano già deciso e questo di questo neanche prova il fatto che 800 barra 850 soldati non si sono ritirati sono rimasti alle loro posizioni per arrendersi ai russi e l'ha detto l'altro giorno lo dico io l'ha detto un deputato della rada ucraina che ha detto che l'esercito ucraino si è lasciato dietro 800 850 soldati che sono rimasti in città e che si stanno si sono arresi alle alle forze russe molto semplicemente perché perché per loro così la guerra è finita a un certo punto probabilmente molto interessante rifiuteranno addirittura magari di essere scambiati con altri come già molti hanno fatto di essere scambiati di tornare a combattere ricordiamo che nei mesi scorsi la centodecima brigata e altre avevano fatto addirittura dei video in cui si lamentavano di come erano trattati dello scarso equipaggiamento che avevano della mancata rotazione erano sul fronte da due anni questi soldati da due anni senza mai essere sostituiti erano stanchi e questo è un passaggio importante come hai detto tu giustamente interessante da seguire ora vediamo ecco dicevo appunto vediamo adesso che cosa succederà nel frattempo ci sono altri punti di difesa altre linee di difesa dietro per cui in questo tipo di guerra non vedremo mai a meno che non ci sia un collasso delle linee ucraine e cioè che gli manchino proprio le risorse non vedremo mai un collasso e un avanzata come intendiamo tradizionalmente del fronte avanzeranno sempre lentamente con piccole squadre di passo in passo ma possiamo vedere però che la russia mantiene costante su molti fronti la pressione offensiva c'è tutto il fronte a sud di donetsk marinka novomichailovka costantinovka per vomaisk dove i russi pian piano filare dopo filare stanno avanzando c'è la zona di artiomosc dove ci sono nuovamente i russi alle porte di vanosche stanno per prendere un'altra cittadina un sobborgo di artiomosc che gli aprirà poi la strada per chiasoviar a nord anche ci sono i fronti che avanzano in direzione di terni e non quella dell'umbria e della zona di kupiansk dove tra l'altro hanno ucciso un comandante un tenente colonnello ucraino e poi soprattutto c'è un avanzata da due giorni che è iniziata ieri e oggi praticamente a rabotino cioè sul fronte dove c'era stata l'avanzata ucraina e i russi stanno guadagnando posizioni soprattutto dalla parte est di questo fronte dove sono già avanzati di circa due chilometri e mezzo tre che non è poco che non è poco in due giorni voglio dire senti stefano e in tutto questo l'occidente la nato cosa fa allora la nato sta pensando di questi di questi f16 no che arriveranno dicono però arriveranno a giugno e poi i piloti teoricamente saranno saranno pronti almeno parzialmente pronti per per governarli per guidarli a settembre no ma da qui a settembre ne succedono di cose no gli aerei dovrebbero essere già in zona qualcuno ha detto già consegnati in ucraina perché quando danno delle date io le vedo sempre come degli specchietti per le allodole nel senso che potremmo vederli anche prima soprattutto per il fatto che l'ucraina vede sempre meno caccia presenti al fronte cioè questo significa che ne hanno pochissimi pochissimi veramente e dall'altra parte invece proprio sul fronte di avdeefka per la prima volta in questo conflitto abbiamo visto l'impiego massiccio e in totale situazioni di superiorità aerea l'aviazione russa appoggiare al suolo le forze che avanzavano sono state lanciate in un giorno 250 fab guidate e cioè quelle che colpiscono con precisione il i loro bersagli perché hanno un kit che le fa planare con guida gps fino sul bersaglio gps glonas quello che che usano questa è una situazione nuova la russia l'ucraina non aveva da opporre neanche le difese aeree perché perché quando nei giorni scorsi abbiamo detto che venivano colpiti diversi lanciatori radar eccetera erano colpiti veramente e di fatto questo fronte è rimasto scoperto di difesa aerea scoperto la nato cosa cosa farà la nato al di là degli annunci assisterà alla riconquista da parte della russia dei territori che ritiene le appartengano la russia proseguirà fino a che non per i territori che le appartengono ma quando sarà garantita la piena sicurezza del territorio russo il che è molto diverso perché non si tratta di una guerra per il donbass o per la popolazione del donbass qui si tratta di una guerra per una sicurezza strategica del territorio russo per metterla al riparo da un eventuale attacco via terra da parte delle forze della nato ed è molto differente questo quindi non si parla di territorio del donbass ma si parla di resa del dell'ucraina e di disarmo dell'ucraina e della del porre sotto controllo russo diretto o indiretto tutto il territorio del paese sì è diverso è molto la nato la facciamo stiamo facendo riposare un attimo giacomo fra poco rientra rientra in 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 campo alla grande la la nato cosa fa la se la prende porta a casa questa siamo in una fase invece no mente molto pericolosa siamo in una fase molto pericolosa ci sono molte forze che spingono all'interno della nato per un intervento diretto per la fornitura di altri sistemi d'arma si parla della fornitura di due milioni di droni nei prossimi nel prossimo anno si parla della fornitura di scusate di un milione di droni di due milioni di proiettili d'artiglieria perché vogliono incrementare notevolmente la costruzione di questi proiettili ricordo che al momento la produzione europea intorno ai 40 mila al mese europea europea di tutta l'europa intendo per la produzione americana siamo intorno ai 15 20 mila al mese la produzione russa è intorno ai due milioni e mezzo all'anno barra tre quindi siamo su altre cifre decisamente tant'è che l'unione europea che aveva promesso di acquistare un milione di proiettili d'artiglieria sembra che ne consegnerà a marzo 300 mila non si capisce come possa pensare di arrivare a produrne due milioni e quest'anno stessa questa è la grande domanda si giacomo giacomo cosa cosa fa la nato è una fase pericolosa confermi pericolosa è sempre stata indubbiamente chiaramente nel momento in cui si profila la sconfitta ormai non più non più nascondibile dietro vari slogan il gioco si fa comincia a farsi serio perché qui cade il mito della nato anche nella percezione collettiva no della della delle persone no quello se si brucia la deterrenza cioè se viene meno che già peraltro parecchio intaccata dal disastro in afghanistan molti se ne sono dimenticati ma quello fu un smacco colossale epocale qui però sul campo di battaglia proprio anche soprattutto da un punto di vista tecnologico anche quello era il discorso vabbè con l'afghanistan non ci siamo voluti impegnare fino in fondo mettiamola così qui invece sono i sistemi d'arma russi che hanno dato performance superiori per esempio in molti settori non in tutti magari però è indubbio che un paese non occidentale da solo e ha tenuto testa dal punto di vista militare economico alla nato nel suo complesso questo ha delle ripercussioni gigantesche a delle ripercussioni in un'ottica come dicevo di deterrenza ma la deterrenza non è solo militare la deterrenza è anche per esempio finanziaria cioè alla fine delle fini tutto il sistema si regge così l'ordine internazionale imperniato sugli stati uniti si regge sulla loro capacità di minacciare ritorsioni in caso delle cose non vengano non vengano le cosiddette regole non vengano rispettate il problema è che se in adempienza così così macroscopica gli Stati Uniti non riescono a sanzionarla ecco che cominceranno un'altra una serie crescente di paesi ad alzare la testa e a muoversi in maniera disalineata rispetto agli Stati Uniti quindi questo è una prospettiva molto molto inquietante in una fase in cui diciamo la reputazione stessa degli Stati Uniti è fortemente danneggiata dallo spalleggiamento più o meno a critico ma de facto della campagna stragista che sta portando avanti Israele quindi io credo che le due questioni di questioni si intersechino e soprattutto ci sia un concretissimo rischio di sovraespansione degli Stati Uniti cioè perché volevano c'era lo studio da Iran Corporation che suggeriva di inchiodare la Russia la sovraestensione militare e in quel rischio sono incappati loro perché adesso hanno due fronti aperti quel russo e quello medio orientale un terzo da tenere sott'occhio che è quello taiwanese e insomma e hanno per esempio hanno le loro infrastrutture militari disseminate nel Medio Oriente che sono presi di mira dalle forze più o meno legate alla sede della resistenza c'era qualcuno che ventilava la possibilità di ritirarsi dagli Stati Uniti di ritirarsi dall'Iraq e dalla Siria io non credo che lo faranno non in tempi brevissimi ma la logica suggerirebbe di accorciare i fronti da presidiare questo sarebbe un obiettivo da perseguire in realtà però ci sono interessi contrari che rimano per l'appunto nella direzione opposta interessi quali la Israel Lobby tanto per dirne una il complesso militare industriale e due e quindi insomma c'è sempre il rischio che ci sia un rilancio però anche sul credo che sia veramente difficile a un punto in cui siamo poter credere di invertire l'inerzia presa dai fatti sul campo di battaglia quindi dovranno farsene più o meno una ragione poi si inventeranno qualsiasi cosa pur di non ammetterlo diranno che in realtà Putin come lo vanno dicendo ormai da anni Putin ha già perso quindi tutto sommato potranno cercare di costruirci sopra dei castelli di carte per poter che gli permettano nella loro speranza di negare la realtà ma più di questo difficilmente potranno fare Tu Giacomo pensi che ricorreranno più alla narrazione che ai sistemi quindi agli interventi a un intensificarsi delle questioni belliche Non credo che abbiano poi molte alternative perché la Russia comincia anche la Russia a fare su serio cioè fino a quando sarà disposta a tollerare certi per esempio che gli ucraini si avvalgano di indicazioni di intelligence occidentali per coprire in profondità il territorio russo e adesso ci sono stati dieci morti a Belgorod quindi non è una cosa di poco conto c'è sempre il rischio che la situazione sfugga di mano poi dopo bisogna vedere cosa succede quanto si è disposti a sfingersi in avanti perché un conto sono le dichiarazioni un conto poi dar concretamente seguito a un impegno militare io non ce lo vedo esattamente Stoltenberg a imbracciare il fucile e andare a combattere in Ucraina occhi per lui Manda noi Eh ma anche noi Non lo so voglio dire la popolazione che è ingaggiabile in Europa l'avevamo già affrontato questo non so quanto siano disponibili Tu Stefano, prego Giacomo No no finisco dicendo perché alla fine la stessa logica della guerra ucraina armiamoli che partano insomma noi ci mettiamo le armi ma la cannone ce la mettono loro gli Stati Uniti sicuramente ci stanno pensando adesso di usare gli europei forse c'è qualche scandinavo che pensa di fare queste cose del genere si accomodi non credo che molti tedeschi, molti italiani, molti francesi siano d'accordo con questa linea c'è sempre la vecchia spaccatura in sino all'Europa tra la nuova Europa cosiddetta nuova Europa e la vecchia Europa Facciamo però attenzione che continuano da alcuni mesi a dire bisogna mobilitarsi, bisogna ripristinare la leva bisogna creare delle riserve militari bisogna passare alla produzione di massa da tempo di guerra questi sono tutti segnali molto precisi che passo dopo passo ci stanno portando verso delle scelte che potrebbero essere irrevocabili cioè dici che stanno creando i presupposti anche da un punto di vista psicologico nelle persone ma certamente la storia di Navalny la storia delle minacce nucleari nelle stragi di Buccia e altro sono tutti dei costrutti che servono a creare nell'opinione pubblica o almeno nella parte più debole mentalmente dell'opinione pubblica dell'Unione Europea l'idea che sia inevitabile andare in guerra con la Russia la dicevano anche i giorni scorsi è una cosa che comincia ad essere un po' ricorrente adesso non la stanno dicendo in questi ultimi giorni studi e documenti che dicono che la Russia entro 8 anni potrebbe attaccare la Germania ma certo Giacomo ha da dire qualcosa prego Giacomo ma che queste cose siano in atto io non è assolutamente in discussione sono pienamente d'accordo io ho completato il discorso volevo dire semplicemente che il conflitto in Ucraina secondo me è segnato ma non è finita lì questo è il punto cioè cercheranno comunque di riaprire la questione avvalendosi, cercando di avvalersi di qualcuno che si è disposto a farlo di pacco taglia che crede a queste cose che dobbiamo prepararci a vent'anni di guerra come dicono gli anglosassi gli inglesi per esempio lo ripete Stoltenberg però il tentativo c'è ma io la frattura tra le popolazioni tra le classi dirigente chiamiamola dirigente e le società civili la vedo sempre più ampia e poi quando concretamente si tratta di andare in guerra e noi non sappiamo minimamente cosa sia sicuramente non lo sa la mia generazione io credo che anche questo prepararsi in vista di un domani secondo te Giacomo non ce la faranno le varie amministrazioni i vari governi a convincere i giovani comunque le persone in età ruolabile ad andare a destrarsi cioè il punto è sempre quello abbiamo già parlato io sarei molto a favore di una neutralità armata la neutralità deve essere armata bisogna provvedere alla propria autodifesa e questo costa richiede impegno eccetera ma la propria autodifesa non a sostegno della Nato c'è questo scontro delle civiltà che cercano di costruire in ogni maniera io credo che in alcuni paesi purtroppo stia attecchendo e mi sono ho fatto prima riferimento alla Scandinavia e quell'area lì la Scandinavia la Polonia i Baltici indubbiamente sono collocati da quella parte tutti gli altri molto meno molto molto meno secondo me cioè Cercrosetto ci può anche provare però la popolazione italiana non è di quell'avviso la popolazione francese nemmeno quella spagnola nemmeno quella tedesca nemmeno può essere lo Schulz però mentre in alcuni paesi c'è non dico un allineamento però c'è un sentimento di russofobia spaventosamente acceso spaventosamente rinfocolato su cui si può concretamente far leva e quei paesi purtroppo si prestano Polonia Baltici esatto esatto poi dopo alla prova dei fatti io per esempio sono sempre stato convinto sì la Nato c'è l'articolo 5 ma la prova cioè non è mai stato messo alla prova se veramente c'è l'ombra delle armi nucleari qualcuno crede che veramente non ci si accomodi prima quindi per esempio qualcuno non potrebbe usare si parlava della manovalanza polacca usa i polacchi li mandi in Ucraina i russi hanno detto sì benissimo ma l'articolo 5 non vale usiamo anche il contrario noi prendiamo assolutamente di mira il personale polacco e ci rivaliamo sulle infrastrutture a quel punto i polacchi hanno cambiato subito la reazione è stato interessante anche quel perché ci sono delle classi dirigenti che soffiano sul fuoco palesemente il rischio qui è concreto però io veramente credo che ci siano le società civili abbiano un po' sicuramente più dell'anno scorso più di due anni fa hanno usato l'aria che tira e capito che il gioco non è esattamente così cristallino e la popolarità delle tutte le visualizzazioni che ha ricevuto l'intervista di Putin secondo me ne sono un'indicazione piuttosto chiara è di fatti quella intervista come dicevamo prima l'omicidio di Navalny viene molto utilizzato e verrà molto utilizzato anche per disinnescare questa intervista diciamo la morte la morte di Navalny avevo detto scusa l'omicidio l'omicidio la morte sì d'accordo quella mette d'accordo poi aspettiamo poi aspettiamo l'esito delle indagini questo è oggettivo i russi indagano comunque è arrivata anche un'ispezione al centro di detenzione da parte delle autorità centrali russe sono andati a fare un'ispezione per capire bene com'è avvenuta questa cosa perché ripeto all'amministrazione russa attuale la morte di Navalny non serviva assolutamente anzi gli serviva vivo quindi per questo indagheranno indagheranno a fondo per capire anche soprattutto come alcuni giornali esteri sembra che abbiano avuto più informazioni di quelli russi questa è una cosa strana le prossime settimane sulle indagini sarà interessante perché potrebbero venire fuori dei colpi di scena non da poco anche perché queste indagini sono affidate alla Russia ovviamente sono di competenza ovviamente sua volevo chiudere il cerchio Stefano su proprio la questione che arriva affrontato poco fa Giacomo della della disponibilità diciamo delle popolazioni in Europa a prestarsi a questa so che avete delle visioni un po' diverse in questo senso no? ma guarda io credo che no diverse non del tutto nel senso che io ritengo che sia necessario ritornare a un esercito di popolo da questo punto di vista ma al di fuori della Nato e cioè nello spirito della nostra Costituzione garantire la difesa del nostro paese e sottrarlo ai giochi invece di altri paesi che ci stanno portando verso un conflitto e noi dobbiamo evitarlo questo conflitto ecco la popolazione la popolazione o le popolazioni non vogliono andare in guerra o mandare i loro figli in guerra perché questa vista la poca anche disponibilità di leva negli ultimi decenni manderebbero anche le ragazze non solo i nostri figli ma anche le nostre figlie al fronte perché ricordiamolo che ci sono arruolati anche donne a tutti i livelli di truppa sotto ufficiali e ufficiali nell'esercito italiano quindi chiamerebbero tutti quindi noi dobbiamo toglierci da un'alleanza che sta marciando e ci spinge verso un conflitto le dichiarazioni di Stoltenberg sono eloquenti in tal senso le dichiarazioni di paesi leader nell'alleanza come la Gran Bretagna sono esplicite in tal senso gli altri paesi come il nostro non contano scusami Carlo non contano un cazzo cioè quello che dice Crosetto quello che dice Crosetto o Lameloni non servono a nulla perché quando gli diranno no voi fate così loro diranno comandi senti e l'idea di dare come dicevo prima lo riporta alla Repubblica lo dicevo all'inizio proprio nell'introduzione della nostra puntata l'idea di dare concretezza a un mercato comune della difesa spinta lo dice ripeto Repubblica dalla von der Leyen e da Mario Draghi ecco questa qui è l'ennesima pacottiglia che ci viene venduta per usare i nostri soldi nel creare una guerra o nell'usare poi le risorse del nostro esercito ai fini degli interessi altrui mettere in comune la difesa cosa vuol dire vuol dire che quello che noi abbiamo verrà usato da altri fondamentalmente perché perché non siamo noi a dirigere l'alleanza non siamo noi a dirigere l'Unione Europea sono nell'Unione Europea principalmente Francia e Germania nella Nato Gran Bretagna e Stati Uniti e di conseguenza dove sono i nostri interessi non ci sono mai qualcuno se qualcuno ancora si chiede a che cosa servisse la seconda portaerei italiana beh adesso lo sa Giacomo proprio una considerazione breve siamo in chiusura anche se qui si potrebbe aprire un altro capitolo una puntata nuova ecco il mercato comune della difesa potrebbe essere la spinta per la creazione degli Stati Uniti ed Europa potrebbe essere vista anche la narrazione che c'è la narrativa di pericolo che è un'Unione Europea che si trasferisce un UE e un UE che diventa una UME una Unione Militare Europea non credo perché in realtà dopo a quel punto sarebbe sempre il solito discorso la Nato cosa ci sta a fare cioè tutti questi discorsi sono già stati affrontati quando si parla di autonomia europea autonomia europea è il contrario di Nato il contrario quindi o si va in quella direzione o se no le cose si lasciano come stanno tutti questi discorsi che si stanno continuando a fare bisogna creare una comunità di difesa europea eccetera poi la Germania che fa scelte missilistiche che vanno in direzione statunitense israeliana e non compra per esempio i sistemi italo-francesi ha preso i Patriot e costruirà i Patriot bravo domanda potrebbe essere l'atteggiamento una probabile vittoria ad esempio di Trump che dice la Nato cioè l'Europa in pratica deve arrangiarsi deve tirare fuori i soldi potrebbe la sua posizione per paradosso incentivare la nascita di una difesa comune europea domando no perché questi discorsi lasciano il tempo che trovano Trump può dire quello che vuole lui già poi la dovrebbe aver capito che quando si si sposta da certi imperativi categorici si rischia di fare una brutta fine Trump sta dilapidando il suo patrimonio in spese legali eccetera che se non si fosse candidato nessuno gli avrebbe mai contestato e sta succedendo esattamente questo figuriamoci se adesso lui dovreste mettere concretamente in discussione il vincolo atlantico in uno momento in cui gli Stati Uniti stanno risucchiando le industrie europee e stanno invadendo il mercato europeo con sistemi d'arma il loro gas naturale liquefatto questi sono specchietti per le allodole Trump potrà anche esserne convinto ma non è una prospettiva del tutto irrealistica specialmente in una fase come questa non potrà fare nulla vedete c'è un contrasto già in atto adesso perché quando si è parlato ad esempio di comprare questi famosi due milioni di proiettili d'artiglieria la Francia ha subito messo l'alto là e ha detto fermi noi non li prendiamo da fuori dobbiamo produrre i nostri soldi devono servire per produrli in Europa questi proiettili quindi ha già posto un alto là quindi bisogna costruire prima anche dei nuovi stabilimenti per produrre questi famosi proiettili ma il punto fondamentale è uno l'America questo popò di pandemonio che ha tirato fuori non l'ha fatto per far sì che poi gli europei si costruiscano le loro armi da soli ecco l'ha fatto per dire adesso voi comprate le mie ecco e tra poco vedrete che inizieranno questo giro di waltzer bene molto interessante anche questo io direi come avete capito amici ascoltatori potremmo andare avanti con le analisi di alto livello per molto ancora ma di cose oggi ne abbiamo di carne al fuoco ovviamente e di valutazioni ne sono state fatte tantissime siamo ormai in prossimità dell'ora quindi chiudiamo la nostra puntata di oggi io ringrazio questa volta di martedì ringrazio molto Stefano Orsi grazie Stefano grazie Carlo per l'invito grazie a tutti gli spettatori ma qui non è un invito ormai è casa è casa comune questa e il canale ricordo il canale di Stefano Orsi il canale omonimo come ricordo il canale di Giacomo Gabellini il canale YouTube Il Contesto splendido canale complimenti Giacomo grazie grazie per il prezioso contributo anche di questa settimana grazie grazie a tutti voi amici ascoltatori grazie a tutti 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 grazie a tutti